Al termine di queste tre giorni di sport motociclistico siamo con Monticelli che oggi ha vinto, è stato uno dei protagonisti. Allora ti chiediamo che gara è stata e quanto ti rendi orgoglioso di questo successo in Tarabuschese? Beh è stata una bellissima gara, sia perché è ritorno da un infortunio, infatti la scorsa gara ad Alba Ida, lo trovo infortunato alla spalla e quindi sono molto contento sia per me che per il mio team perché lavoriamo da tutto questo inverno e quindi c'era bisogno di una bella soddisfazione come quella di oggi. Il weekend è andato bene fin dall'inizio, nel sabato siamo riusciti a conquistare la pole e poi la domenica abbiamo conquistato entrambe le gare, quindi giornata perfetta, sono contentissimo. Infatti vorrei ringraziare tutti, dal team, alla famiglia, agli amici, agli allenatori che mi hanno sostenuto per arrivare fino a dove sono arrivato oggi. Obiettivi di questa stagione? L'obiettivo era quello di vincere l'Europeo, solo che a causa della caduta ho dovuto perdere due match, quindi 2-0 pesanti. Adesso mi trovo attualmente settimo in classifica generale, sono a 56 punti dal primo, io ci proverò fino all'ultimo ma la vedo molto dura. Grazie mille! Grazie a voi!